Ciao ragazzi, grazie a tutti. Con questo brevissimo video messaggio vi voglio ringraziare tutti quanti, ma proprio tutti, perché siete stati davvero gentilissimi, carinissimi, per gli auguri che mi avete fatto per questo mio giorno speciale che è il mio compleanno. E soprattutto tanti messaggi più che scrivere in bachetta. Io ho avuto il piacere di rispondere personalmente ad ognuno di voi, perché per me le amicizie sono importanti, al di là del fatto che Facebook è un grosso contenitore di cose anche molto spesso vuote, ma credetemi, per me l'amicizia è veramente importante e quindi mi sono preso del tempo trascurando anche un po' la mia famiglia per cercare veramente di rispondere personalmente ad ognuno di voi. Grazie ancora, volevo far vedere questa magnifica torta che l'amore mio ha fatto per me, che forse è stata l'unica persona che ho trascurato di più quest'oggi, ma perché davvero sono stato straimpegnetissimo per rispondere a voi e questa è la bellissima torta che mi ha fatto degna di un musicista, spero. Eccola qua, puoi inquadrare, grazie, grazie. Ok? Vi saluto, ciao da me e dall'amore mio. Dimentichiamoci che è anche il giorno del mio compleanno, lavoro e infatti vedrete questo piccolo filmatino di stamattina con mio fratello Ugo. Grazie, ciao ancora. Vedi qua, in questi contrappunti che ogni tanto fai, ci sono delle gost che voglio fare uscire. Comunque col suono ci siamo, in grosso modo. Adesso vediamo. Non è male, non è male, non è male già in partenza. Il pezzo è molto American, ho voluto dare quest'aria a questo profumo, ovviamente. Un brano che ha un sapore un po' Hollywood. E i pezzi infatti della batteria che hai usato sono quelli. C'è il rullante da 8? Da 8, no? Sì, da 8. Ma bestia. Interessante. No, mi piace, mi piace. Bella. Un 14x8 in acciaio. Ascoltate, vi ringrazio tutti. E oggi siamo qui. Ugo si chiedeva mentre eravamo qui al lavoro il perché mi arrivassero tanti messaggi, ma probabilmente per essere qui con me al lavoro non si ricorda che oggi è il mio compleanno. Tanti auguri, tanti auguri. Te li faccio non in diretta, ma te li faccio comunque in video. Grazie. Grazie. 46. Eh sì. Ecco, beccato. 46 anni. Bene, dai. Sto sempre indietro a te comunque. Eh beh, certo. Io sto sempre indietro a qualche altro comunque. Vabbè, ma ci viviamo un anno, dai. Niente di più. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, ciao.